La delegata del turismo del comune di Orosei, Francesca Serra, ha invitato gli operatori turistici e gli esercenti del territorio a collaborare fornendo brochure, flyer, videopromozionali delle diverse tipologie e categorie delle attività che verranno presentate e promosse in occasione della Travel Expo 2023, la 45esima fiera internazionale del turismo di Budapest in Ungheria nell'apposito stand dedicato al comune di Orosei. Tale materiale dovrà essere fornito entro il prossimo 5 febbraio. Riteniamo importante partecipare a questa fiera in considerazione del fatto che il mercato ungherese è interessato a proposte riguardanti anche il turismo attivo e i periodi spalla a quelli della stagione estiva e questo ci garantirebbe di conseguenza, ha spiegato Francesca Serra, l'allungamento della stagione turistica. La presenza infatti presso la fiera del turismo di Budapest crea i presupposti per incentivare la visita turistica della Sardegna considerando alcuni punti di forza come voli diretti stagionali con Ryanair da Alghero a Budapest e voli diretti annuali Ryanair da Budapest a Cagliari. La fiera internazionale è l'evento più significativo del paese e della regione dell'Europa centro-orientale, rappresenta infatti una delle fiere del settore turistico più importanti dell'est Europa con oltre 25 mila metri quadri di padiglioni espositivi e con la presenza di un numero elevato di visitatori. Invitiamo dunque tutti gli operatori, ha concluso Francesca Serra, a non perdere questa occasione per contribuire alla promozione del territorio il quale ribadiamo verrà promosso nel suo complesso ma saranno anche illustrati tutti i servizi offerti ai vari tour operator e a tutti coloro che faranno visita allo stand o chiederanno informazioni.